Il programma che è stato pensato per queste giornate che si inseriscono anche nel lungo novenario preparato per la festa dell'assunta di San Rocco, tanto venerati in questa comunità parrocchiale, avranno il sapore di questa straordinaria presenza delle reliqui di Santa Bernardetto. Cominceremo il 6 di agosto quando alle 17.30 dinanzi al piazzale della nostra chiesa parrocchiale accoglieremo le reliquie di Santa Bernardetto con una celebrazione di accoglienza e alle ore 19 la Santa Messa preseduta dall'Arcivescovo Monsignor Felicia Crocca. Dopodiché la chiesa rimarrà aperta per la venerazione delle reliquie da parte dei fedeli per chi vorrà liberamente da tutta la diocesi venire qui nella nostra comunità a pregare dinanzi alle reliquie della Santa Bernardetto. Il giorno successivo, il 7 di agosto, dedicheremo la giornata alle vocazioni perché Bernardetto è stata scelta da Dio e quindi vogliamo pregare per le vocazioni perché tanti nostri giovani possano scegliere di camminare con Cristo e dedicare il loro cuore al Signore, proprio come obbedientemente ha fatto Santa Bernardetto. E dunque la Messa che celebreremo alle ore 19 sarà proprio animata dai seminaristi della nostra diocesi di Benevento con l'accensione della lampada per le vocazioni. Il giorno 8 di agosto la giornata sarà dedicata prettamente agli anziani e agli ammalati. Alle ore 19 sarà accesa durante la celebrazione eucaristica la lampada proprio per gli anziani e gli ammalati e durante la Messa sarà amministrato anche il sacramento della unzione degli infermi. Il giorno 9 di agosto la giornata sarà dedicata alla pace. Quindi durante la celebrazione della Messa sarà accesa la lampada della pace per affidare veramente a Maria, regina anche della pace, la nostra comunità e l'intera diocesi. Vivremo la processione alle 21.30 au flambeau per ricordare e fare memoria della processione con le candele che si fa a Lourdes e poi saluteremo le sante reliquie, affideremo la nostra comunità e l'intera diocesi alla Vergine Santa di Lourdes. Come mai in Italia le reliquie di Santa Bernardetto? A Lourdes ogni anno scelgono una tematica da affrontare e identificano delle figure particolari. Ovviamente quest'anno si è pensato di dedicare tutto l'anno pastorale a Santa Bernardetto perché quest'anno ricorrono il 175esimo anno dalla nascita di Santa Bernardetto e il 140esimo anno dalla morte di Santa Bernardetto. E dunque proprio in questa occasione dedicare un anno a Santa Bernardetto si è pensato di far arrivare in Italia e in 34 diocesi della nostra Italia le reliquie di Santa Bernardetto e al dire il vero la nostra comunità parrocchiale si sta preparando veramente con tanto fervore, con tanta attesa alla venuta delle reliquie perché fondamentalmente è una comunità che sente molto vicina la presenza di Maria, sente molto vicina la presenza anche di Santa Bernardetto tant'è vero che per tanti anni alcuni nostri parrocchiani tramite l'Unitalsi hanno realizzato il viaggio a Lourdes portando ammalati, portando anziani quindi è una comunità legata alla spiritualità di Lourdes e di Santa Bernardetto. E ancora di più quest'anno la tematica che sarà affrontata anche al santuario di Lourdes è proprio Beati i poveri, facendo riferimento alla povertà di Santa Bernardetto. Santa Bernardetto ha affrontato tanti tipi di povertà, povertà materiale, povertà fisica, diciamo era sempre ammalata e dunque lei è stato a stretto contatto con la povertà, la povertà anche intellettuale, era una ragazza molto semplice e il Signore sceglie sempre i semplici, sceglie i poveri in spirito per realizzare grandi opere, opere straordinarie, proprio quella di Santa Bernardetto. Ricordiamo che le reliquie che arriveranno qui saranno parte delle costole di Santa Bernardetto perché come tutti conosciamo e sappiamo il corpo di Santa Bernardetto si trova a Nevers in Francia ed è un corpo incorrotto e ci sono ancora parti molli, come se fossero vive, del corpo di Santa Bernardetto quindi è un grande miracolo, qualcosa di straordinario. E allora anche per questo veramente la nostra comunità e la nostra diocesi vengono baciate dalla grazia di Dio e dalla materna presenza anche di Maria. Grazie. Grazie a tutti voi, vi invito a partecipare con noi a questo grande evento insieme e camminando insieme con Bernardetto sulla via che ci porta alla santità. Grazie a tutti.